Parametri non ancora superati, le marche restano un'altra settimana in zona gialla. Pillola anti-covid prescritta anche a Fanno, il coordinatore delle USCA assicura, è efficace e riduce le ospedalizzazioni. Fuga di monosido di carbonio in una casa di Senigallia, una coppia e tre bambini portati in ospedale. Omega 3, i grassi buoni che arrivano dal mare e difendono cuore, occhi e cervello, ecco i consigli dell'esperto Francesco Lampugnano. Sant'Orso ancora di più a misura di bambino, in Via Petri sorgerà un nuovo parco inclusivo, più telecamere, punti luce a LED, interventi e giochi anche nel parco della Piazzetta dove tornerà in funzione alla Fontanella. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Le marche restano in zona gialla per un'altra settimana, infatti l'arancione scatta con il superamento della soglia del 20% nell'occupazione delle terapie intensive del 30% dell'area medica. I dati diffusi oggi dalla Regione sull'andamento della pandemia confermano i 51 posti letto occupati dai pazienti Covid in intensiva, pari al 19,92%, e i 289 letti nei reparti ordinari, pari al 29,5%. Secondo il direttore dell'osservatorio regionale Marco Pompili la tendenza inizia ad invertirsi e dunque si resta fiduciosi. Al termine di questa settimana, scritto invece sui social il governatore Francesco Acquaroli, siamo tornati ad avere due dei tre indicatori al di sotto della soglia, quindi restiamo in zona gialla con una piccola speranza che si accende anche per il futuro. Dopo la Valle d'Aosta, le Marche sono la Regione con il maggior numero di somministrazioni di anticorpi monoclonali che, come affermato dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, hanno da tempo dimostrato la loro efficacia. Sono il contributo più valido per curare il Covid a livello ambulatoriale, specie nei soggetti fragili. La prossima settimana si stimano 229 prescrizioni, d'altra parte aumenta l'utilizzo in ambulatorio del farmaco antivirale Rendemisil. Sono stati 81 invece i pazienti che hanno ricevuto il monlupiravir alla pillola anti-Covid, sempre tra il 12 e il 18 gennaio nella settimana precedente, erano stati 29. La pillola anti-Covid è stata prescritta anche a Fano dall'Eusca per quattro pazienti. Il nuovo farmaco che viene somministrato a casa sta funzionando e permette di ridurre i ricoveri negli ospedali. Ce ne parla il coordinatore delle unità speciali, Luca Santilli. Le cure a domicilio potenziate con la pillola anti-Covid, l'antivirale della casa farmaceutica Merck, che viene assunto per via orale, ma entro 5 giorni dall'insorgenza di sintomi, altrimenti il suo utilizzo rischia di diventare inutile. Il nuovo farmaco, che si chiama monlupiravir, ma il nome comune con cui si trova in commercio è l'Agevrio, ha lo scopo di impedire il verificarsi di un quadro serio della malattia e rappresenta un'evoluzione nella terapia domiciliare precoce. Tutti i pazienti che lo assumono gratuitamente sono iscritti in un apposito registro di monitoraggio per verificarne gli effetti a breve e a lungo termine. Anche a Fanno le unità speciali di continuità assistenziale hanno iniziato a somministrarlo, un altro passo avanti, importante, nella lotta al coronavirus. Luca Leusca, in prima linea anche in questa quarta ondata, quanti siete qua nella zona di Fano? Nella zona di Fano attualmente siamo arrivati ad essere 24 medici e 4 infermieri. Quindi al giorno siamo tre unità composte o da due medici o da un medico e un infermiere. Tra le ultime novità c'è appunto quella della pillola anti-Covid. Quando l'avete somministrata per la prima volta e a quale paziente? Allora, adesso come Leusca abbiamo a disposizione questo nuovo farmaco, che è un antivirale orale, quindi sotto forma di compresse, e l'abbiamo somministrata per la prima volta domenica a un paziente anziano cardiopatico. Come ha risposto? Ha risposto molto bene, non ha riferito a eventi avversi al farmaco e adesso anche lui sta bene, non ha sintomi da Covid. Il meccanismo come funziona? Vi viene segnalato o siete voi che dovete individuare il paziente? Allora, tutto parte dai medici di medicina generale che conoscono meglio i loro assistiti e sanno quelli che sono un po' più fragili che quindi potrebbero beneficiare di questa terapia antivirale precoce e quindi ci mandano la segnalazione per dire a un paziente con dei sintomi possibili Covid e quindi necessita di eseguire un tampone in modo tale che se fosse positivo potrebbe iniziare la terapia. E quanto dura? La terapia dura cinque giorni. Noi, a proseguito il coordinatore di zona, monitoriamo quotidianamente ogni paziente sottoposto a questa terapia antivirale in modo tale che ogni giorno possa riferirci a eventuali eventi avversi al farmaco. Dopodiché eventuali alterazioni nello stato di salute vengono comunicate al medico di medicina generale il quale può riattivarci o meno per rivisitare il paziente. E in questi giorni poi è stato somministrato anche ad altre persone? Sì, stiamo iniziando a somministrarlo a diverse persone, sempre con patologie varie che vanno dal diabete scompensato a immunodeficienze primarie o secondarie, a problemi oncoematologici. E anche in questi casi ha avuto efficacia? Anche in questi casi stiamo ancora monitorando telefonicamente i pazienti e sembra avere efficacia, sì. Ad oggi in totale quanti sono quindi? Allora, al momento ne abbiamo arruolati tre, di cui uno termina questa sera, il quinto giorno dell'assunzione del farmaco e oggi dovremo arruolarne un quarto. Un'agevolazione anche per il sistema sanitario? Esatto, quello che speriamo con questo farmaco antivirale precoce è quello di ridurre l'ospedalizzazione. È morto dopo aver combattuto una malattia a Gassone e Sgueglia della Marra, 79 anni, storico titolare di Bagni, Gastone e Marta, la spiaggia sul lungomare di Pesero che gestiva da 35 anni. Cordoglio è stato espresso anche da Confartigianato Imprese e De Magnali. Gastone, infatti, è stato per anni vicepresidente nazionale e provinciale di categoria. Confartigianato ricorda il suo grande impegno, portato avanti con passione a servizio dell'Associazione dei Balneari. Con lui hanno scritto in una nota, se ne va un pezzo di storia del sistema turistico pesarese, una persona speciale che rimarrà sempre nel cuore dell'Associazione dei colleghi e di chi gli ha voluto bene. Una famiglia con tre bambini è stata portata in ospedale ieri sera a causa di una fuga di monossido di carbonio che si è verificata nell'appartamento di residenza e via Mercantini a Senigaglia. La segnalazione alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata in turno alle 23.15. I pompieri, dopo aver accertato con della strumentazione specifica le tracce del gas, hanno fatto evacuare la casa e è allertato al 118. Marito e moglie sono stati trasportati all'ospedale di Torrette, mentre i tre bambini sono stati accompagnati all'ospedale Salesi di Ancona, ma non sarebbero in gravi condizioni. Oggi i tecnici hanno eseguito altre verifiche per capire le cause della fuga di monossido che potrebbe essere collegata al caminetto. Vigili del fuoco in azione nella notte, anche nel comune di Cupra Montana, in provincia di Ancona, per un incidente autonomo. Il conducente di un'autovettura, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è rovesciato nel giardino di un'abitazione. Per fortuna il conducente ne è uscito illeso. La squadra di Iesi, intervenuta con un autobotte, ha messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri di Arcevia. Cambiamo argomento. Negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione è stata posta agli Omega 3, sostanze fondamentali per il benessere e per il buon funzionamento dell'organismo. Per comprendere che cosa sono e quali benefici apportano, ci siamo rivolti al dottor Francesco Lampugnani. Sono amici del cuore, della vista e del cervello. Non è un caso che gli Omega 3 vengano chiamati grassi buoni, fondamentali per l'equilibrio dell'organismo. Possiamo assumerli solo con l'alimentazione perché il nostro corpo non è in grado di produrli autonomamente. Per Francesco Lampugnani, nutrizionista specialista in farmacologia, seguire un'alimentazione antinfiammatoria, riducendo i cibi che alimentano l'infiammazione stessa, è un primo passo per migliorare il benessere. Dottore, che cosa sono gli Omega 3? Bene, gli Omega 3 sono acidi grassi del tipo di grassi poliinsaturi, considerati essenziali perché il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli. Ormai è noto ed è stato dimostrato che aumentare il consumo di fonti di Omega 3 apporta numerosi benefici al nostro corpo. Hanno il ruolo fondamentale perché vanno ad essere inseriti a livello delle membrane, specie quelle del tessuto cardiaco, ma soprattutto anche quello del tessuto nervoso, quindi problematiche legate al cervello. Mi consenta di risalire a quella che è stata la loro origine, si è scoperto che lontanamente gli eschimesi abitanti della Groenlandia avevano un basso rischio di problematiche aterosclerotiche, quindi problematiche di infarto cardiaco. Perché? Si è scoperto perché mangiavano molto pesce. I benefici appunto dell'assunzione di Omega 3 è proprio legato al vantaggio di avere, grazie a queste sostanze, una grossa attività antinfiammatoria e una grossa attività nell'andare a ridurre e a migliorare la composizione di grassi ematici, in particolar modo il colesterolo e i trigliceridi. Lampugnani poi ci ha spiegato quali sono gli alimenti più ricchi di Omega 3 con una importante distinzione. Mi consente di spezzare una lancia a favore dei nostri amici marinai, visto che ci troviamo in un bel posto di mare. Le fonti più importanti di Omega 3 le distinguiamo in due tipologie, quella della terra e quella del mare. Quella della terra, e faccio riferimento praticamente alle noci, la frutta secca, l'olio di lino, l'olio di semi di lino, l'olio di soia, le verdure a foglia verde, hanno solo un inconveniente. Non hanno gli Omega 3, il DHA e l'EPA, ma hanno il loro precursore, l'acido alfa-linolenico, che una volta assunto deve essere trasformato negli Omega 3. È una reazione che ha una percentuale molto bassa di efficienza, per cui ne produce poco. L'alternativa è quella di utilizzare l'altra fonte di Omega 3, cioè quella del mare, i nostri pesci, che hanno praticamente gli Omega 3 direttamente disponibili. L'EPA e il DHA, quindi grande consumo e grande invito ad utilizzare il pesce. Specie è meglio quello di piccola taglia, tipico delle nostre produzioni, che ha una bassa percentuale, un basso contenuto di metalli pesanti rispetto ai pesci di grossa taglia, che provengono praticamente da altri mare. Ancora cronaca, gli agenti della questura di Ancona nelle ultime ore hanno concluso un'attività investigativa che ha visto coinvolto un commerciante della zona, resosi responsabile dei reati di illecita concorrenza con violenza sulle cose e danneggiamento aggravato nei confronti di altri esercenti anconetani. Il fatto risale alla vigilia di Natale, quando l'uomo aveva interrotto dolosamente la fornitura di energia elettrica dal quadro dei contatori che alimentano frigoriferi e congelatori di uno dei mercati coperti della città. La mancanza di energia, protratta per giorni durante il ponte natalizio, ha causato inevitabilmente il deterioramento della merce, per lo più carne e pesce. Il forte odore nauseabondo si era diffuso in tutta l'area, non passando inosservato ai commercianti che, dopo la chiusura natalizia, si apprestavano a riaprire le botteghe per il secondo round delle vendite di Capodanno. Le indagini dei poliziotti hanno permesso di individuare e denunciare il commerciante che, probabilmente per motivi concorrenziali, si è reso responsabile del gesto. I colleghi hanno sporto denuncia per i fatti che sono addebitabili all'autore del reato. Il quartiere di Sant'Orso a Fano sarà sempre più a misura di bambino. Questa mattina sono stati illustrati i lavori che partiranno dal mese di febbraio. Tra gli interventi un nuovo parco inclusivo, più telecamere e una nuova illuminazione. Tutti particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Questa mattina il sindaco Massimo Seri, insieme all'assessore Barbara Brunori e Paola Stolfa, hanno illustrato i prossimi interventi che riguarderanno la zona di Sant'Orso. Il quartiere, denominato a misura di bambino, vedrà diverse nuove installazioni, migliorie e una maggiore sicurezza e cura di quei punti trascurati negli anni. I lavori partiranno già dal prossimo mese di febbraio per un importo circa di 150 mila euro. A delincarci la tabella di marcia è l'assessore al decoro urbano. Le installazioni che verranno fatte all'interno del quartiere prevedono una nuova area a gioco, un nuovo parco inclusivo, via Petri, che è concomitante alla pista polivalente da basket. Questa area prevede cinque installazioni che sono completamente fruibili a tutti i bambini, quindi delle altalene, lo scivolo, ci sarà la giostrina, una arrampicata che è una struttura completamente nuova e dei giochi sensoriali. Tutti i giochi che appunto avevano chiesto i bambini e noi abbiamo cercato attraverso i tecnici di mettere a terra, quindi di rendere compiuti. Oltre questo ci sarà tutto il lavoro di riqualificazione di luci, sia di nuove luci nella parte di via Petri, in quel tratto che oggi non era illuminato e poco sicuro, con anche dei nuovi arredi e dei nuovi cestini, ma anche di relamping per quanto riguarda l'efficientamento energetico, quindi il risparmio, quindi un'attenzione maggiore, per quanto concerne la parte a coda sempre di quest'area. Oltre questo interverremo sulla piazza dell'area di Sant'Orso, laddove c'erano dei giochi ammalorati, la fontana e non funzionavano, ripristiniamo tutto, quindi le due fontane torneranno a vivere in quel quartiere e l'area giochi verrà riqualificata in tutta la sua essenza. Oltre questo abbiamo illuminato, come avete già visto, i due attraversamenti pedonali, nell'area che park metteremo due nuovi punti luce e una nuova fontanella. Questo è importante perché si conclude un ciclo, comunque di richieste importanti che il quartiere ci aveva posto, proprio per dire aiutatici a trovare dei luoghi dove noi possiamo vivere insieme al meglio. E dopo l'esperienza di Halloween ci aspettiamo che sicuramente quello è un quartiere che diventerà sociale in tutte le sue parti. E torniamo a parlare della segnalazione che era arrivata ieri alla nostra redazione riguardante l'abbandono illecito di rifiuti nell'area pubblica di vita parcheggio dietro la Snam. L'assessore Bruno Ori, che si era subito adoperata con Aset, oggi ci ha inviato queste fotografie a dimostrazione dell'intervento eseguito. La zona è stata ripulita e, come anticipato ieri, verranno valutate delle azioni di controllo. E alla stessa ora abbiamo girato anche la segnalazione di un piccolo reporter di strada di Fanu TV che stamattina ci ha mostrato attraverso queste immagini lo stato di incuria in cui versa il parchetto di via Don Bosco a Fano. L'erba è alta circa un metro, ci ha scritto Giulio, dieci anni, utilizzando il telefono della mamma. Sono presenti dei mattoni pericolosi, ha aggiunto, su cui i bambini rischiano di inciampare o di ferirsi. Non capisco come la nostra possa essere definita la città dei bambini. In questo spazio verde, ha ricordato Giulio, erano presenti dei giochi, poi i soliti vandali li hanno danneggiati e il comune li ha rimossi senza rimpiazzarli. Bruno Ori ci ha fatto sapere che gli uffici sono già al lavoro da tempo per un progetto dedicato a quell'area, già presentato al quartiere. I residenti avevano chiesto delle modifiche al progetto stesso e quindi il comune sta provvedendo. L'intervento però non è inserito nel piano dei lavori 2022, ma Bruno Ori ci ha precisato che il parco verrà riarredato anche con dei giochi e la pista di pattinaggio verrà sistemata. Vi ricordo che l'ospite di Primo Cittadino, che torna in diretta lunedì sera dopo il telegiornale, sarà il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. Tra poco invece trasmetteremo una commedia dal titolo Canoli e Bignè della compagnia dialettale I Comediant. Fano TV torna ad informarvi domani mattina con Occhio ai giornali, condotto da Massimo Foghetti. Buona serata.